Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland, io sono Andrea e questa è la rubrica del Tessiland News. Oggi parliamo di un prodotto che ha spopolato proprio letteralmente nelle nostre estati. Ci stiamo quasi avvicinando ma è arrivato anche il momento di poterci lavorare e oggi infatti parliamo delle borse di Utah con tante tante novità, ma andiamo a vederle nel dettaglio. Ed eccoci qua a vedere le borse di Utah nel dettaglio. Come vedete Tessiland ha realizzato delle borse di vari colori, come vedete rosso, il tipico colore Utah naturale, il nero e il grigio. Queste sono solo alcune delle coloriture ma vediamo anche nel dettaglio la fabbricazione di queste borse perché oramai il mercato delle borse di Utah è davvero immenso. Ma bisogna fare attenzione ad alcuni dettagli che sono importanti perché giustificano il prezzo di una borsa di Utah fatta bene. In prima di tutto questa borsa di Utah è una borsa che misura 42x33 con 19 di soffietto. La cosa importante da notare è queste ribattiture che sono proprio basate su una copertura doppia in modo da rendere molto resistente questa borsa. Il manico che è in cotone con all'interno in tubolare soprattutto come vedete è un tubolare dove all'interno c'è una corda che manterrà sempre rigido. Ma se apriamo la borsa vediamo anche le ribattiture doppie che ci sono su questa tipologia di borsa e l'interno che è un interno che la rende impermeabilizzata. Questo comunque sia vi permette sempre di poter lavorare sopra questa borsa e fare le vostre borse granny come avete fatto anche nella stagione passata. Vediamo anche le altre misure che sono disponibili sul sito Tessiland come questa borsa di Utah che è un 26x22 con un soffietto di 14. E come vedete nonostante la sua misura uno potrebbe pensare molto ristretta è anche molto molto capiente. E come sempre anche in questa tipologia di borsa un po' più piccola le rifiniture sono sempre eccezionali e rendono molto molto resistente questa borsa. Ci sono in tanti colori il rosso, il nevi, il grey e il nero. A breve arriveranno anche altre tipologie ma non finisce qui. Dopo le borse semplici di Utah andiamo a vedere la novità reale che è questa. E sono le borse di Utah come vedete con la parte di cotone canvas molto molto richiesta soprattutto per poter fare dei lavori di ricamo, applicare la base della vostra mattonella all'uncinetto. E come vedete sono sempre delle borse molto molto rifinite. La particolarità anche del canvas è quella che se volete potete addirittura disegnarci sopra quindi siamo andati oltre. Questa tipologia di borsa come vedete però ha una particolarità che è il manico piatto perché essendo una 21 litri quindi molto molto grande ha bisogno sicuramente verrà portata anche sulla spalla. Ed è una cosa molto molto importante vediamo anche i dettagli di queste tipologie di borse che come vedete questa è la nera con la parte sempre di cotone canvas in chiaro. La parte blu cotone canvas il colore fucsia questo è bellissimo per l'estate e poi c'è il naturale che è proprio la borsa tipica di Utah ma vediamo anche un altro modello. E per concludere per non farci mancare nulla ecco a voi la 30x30 la borsa sempre col cotone canvas e Utah. Un bellissimo soffietto molto molto ampio le rifiniture sempre molto importanti perché queste parti qui sono quelle che si possono staccare più facilmente su una borsa ribattiture doppie ribattiture quindi davvero una borsa resistente. Il manico in cotone e soprattutto il manico in tubolare quindi nella vostra presa siete comunque comode con il l'apple che sarebbe il verde mela e con il fucsia e sicuramente ci aspettiamo tantissimi altri modelli. E come ben avete visto ci sono tantissimi tantissimi modelli non più solo una borsa di Utah ma un qualcosa dove potete creare e rendere sempre unico il vostro prodotto. Io come sempre vi ringrazio se vi è piaciuto questo video mettete un like azionate la campanella e tutti i prodotti li trovate sicuramente qui sotto nel dettaglio e ci vediamo al prossimo news ciao! Ciao!